E' specialità, e' di sonoro in la divisa, e' di sonoro in la divisa! No, creda, e' di prezzi! Un'uffizione di Marina, un'uffizione di Marina, intendo di scontarla di vissa! E' di prezzi, e' di prezzi! Èiódia, èNTecho dictersNING! Dio era un altro uomo? Gён proniettimo Sanzeva? Èigeo! Era un errore! Era un errore! Rips были, non ervan, non ervanительно. di tutto vergogna vergogna indicare il degno i soldi d'Italia alzare le mani di Roma e alzare le mani di nessuno vai! vai! vergogna ti vergogna ti mai finita tu vuoi che hai lasciato fuori dal PD curati 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 io non ho mai rilasciato nessuno non ho mai rilasciato nessuno vai! mi deciderò ci pure ma non si alzano le mani si aggara consigliere del donato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.